Si ribellano all'accorpamento degli uffici delle giudici di pace del Tribunale, che non prevede alcun cambiamento della loro posizione. A Bari, come su tutto il territorio nazionale, l'adesione è pari al 90% circa. Sul sentiero di guerra, Lunagipa, l'Unione Nazionale Giudici di Pace. Accanto a loro si schierano anche i giudici onorari di Tribunale e i viceprocuratori onorari. Il loro sciopero è indetto dal 20 al 24 ottobre e assicurano altre iniziative, sempre più incisive. Fanno parte del popolo degli scioperanti anche il Centro Coordinamento Magistrati Onorari, che raccoglie tutte le sigle sindacali e i magistrati onorari, non iscritti a nessuna associazione. Lo stato di agitazione comporterà profondi disagi ai cittadini e determinerà un ulteriore aggravio delle pendenze non risolte, sia nel settore civile che in quello penale. Ma i giudici di pace non possono più tollerare quello che definiscono un trattamento ingiusto, illegittimo e mortificante, che con spirito di servizio ed estrema dedizione hanno subito per oltre un decennio. Ma a sostenere i colleghi non togati probabilmente scenderà in campo anche la magistratura ordinaria che condivide le rivendicazioni dei giudici di pace. Intanto, dopo l'incontro del 12 settembre scorso, le associazioni maggiormente rappresentative della magistratura onoraria si sono sentite ancora una volta tradite. Per loro adesso le parole e le promesse non sono più sufficienti, vogliono i fatti. E se per ottenere quello che chiedono dovranno scioperare e bloccare il sistema della giustizia, sono pronti a farlo.